Come caratteristiche sono un giocatore aggressivo al quale piace recuperare la palla strappandola dai piedi dei miei avversari. Posso giocare in diversi ruoli a centrocampo, in particolare però mi piace la posizione davanti alla difesa. Calcisticamente sono cresciuto nel Nantes, un club famoso in Francia per il suo stile unico di gioco. Arrivo qui alla Roma con molta voglia di dimostrare tutto il mio valore. Mentre per quanto riguarda i giocatori ai quali io mi ispiro, beh dovrei dire forse Olivier Dacour e anche Fernandinho del Manchester City. Sì, io sono arrivato qui una decina di giorni fa, forse qualcosina in più, ma comunque in questo periodo ho lavorato molto sia sul piano fisico che su quello tattico. Ora non so se il mister mi chiamerà in causa ma se lo dovesse fare io sarò pronto per giocare e mettermi a disposizione della squadra contro il Frosinone.